È un genio. Sai, lavora esclusivamente la carne. Manzo? Sì, guarda che splendore di linee e forme, come rispecchia la società contemporanea. Ti dice qualcosa? Che l'uomo moderno è ciò che mangia. In quel macinato sento vibrare tutta la nostra crisi esistenziale. Si percepisce all'intero rapporto tra l'uomo e il cosmo, sprigionarsi da questa bistecca, vero? È genio, genio puro, ma è vista una tale eloquenza con il vitello. Sublime, costolette post-moderne. La qualità è un'arte e la Coop firma col marchio Prodotti con Amore solo le carni selezionate e controllate con cura. Perché la Coop associa milioni di consumatori che vogliono quello che vuoi tu. La Coop sei tu.